Salve amici del segreto, in questo video andremo a vedere un libro interessantissimo scritto da un autore russo, Vadim Zeland, esperto di fisica quantistica e tecnologia informatica. Si tratta di una persona molto riservata che ci spiega un concetto molto interessante che riguarda il transurfing. Questo concetto offre un modo nuovo di interpretare la realtà e di governare il proprio destino. Applicando i principi del surf, il transurfing insegna a scivolare senza sforzo tra le onde del quotidiano e a cavalcare la vita con leggerezza senza affondare mai. Cominciamo subito. Lo spazio delle varianti Zeland dice che il significato di questa parola può essere interpretato come navigare nello spazio delle varianti, o trasformare le opzioni potenziali in realtà, oppure scivolare tra le linee della vita. Ma, fondamentalmente, se si usa il metodo transurfing, allora si cavalca un'onda di successo. Si tratta quindi di un approccio metafisico di vedere la vita. Si basa sul mentalismo, ossia sul ruolo fondamentale della propria mente e del proprio subconscio nel creare la realtà che abbiamo di fronte. È un tema che abbiamo visto già analizzando, sotto altri punti di vista, libri come Il Chibalion, oppure alcuni dei libri di Joseph Murphy e Neville Goddard. La realtà e le persone che incontriamo, le circostanze che attiriamo, sono il risultato del nostro modo di pensare. Essi ci dimostrano l'efficacia dei nostri pensieri e delle nostre credenze. Per cambiare la realtà dobbiamo prima cambiare internamente, ossia modificare il nostro modo di pensare. Le esperienze che viviamo, siano esse belle o brutte, si basano sul nostro modo di sentirci. Se siamo pessimisti, dubbiosi, non crediamo in quello che vogliamo raggiungere, attireremo esperienze che sono in sintonia con questi pensieri. Se abbiamo fede, invece, finiremo per raggiungere qualsiasi obiettivo. Il funzionamento di tutto questo è però frainteso dalla maggior parte delle persone. Esse credono che la realtà, il mondo esterno, influisca sul proprio operato. Il mondo interno viene quindi considerato una variabile indipendente che influisce sulla variabile dipendente, rappresentata dall'essere umano. L'essere umano, quindi, dipende dall'ambiente in cui vive, dalle circostanze in cui si trova, dalle persone con cui si relaziona, eccetera. Questo però non è vero. Zeeland spiega che è proprio l'essere umano che influisce sul mondo esterno attraverso il suo modo di pensare. Noi, quindi, non siamo l'effetto della realtà perché noi siamo la causa della nostra realtà. Il Transurfing, quindi, è una struttura informativa, un campo dati infinito contenente tutte le versioni di tutti gli eventi che potrebbero accadere. Si potrebbe dire che contiene tutto ciò che è stato, è e sarà. Lo spazio delle varianti è un modello del movimento della materia nello spazio e nel tempo. Sia il passato che il futuro sono lì fermi come i fotogrammi di un film a pellicola e il tempo scorre solo durante il movimento di un singolo fotogramma in cui è contenuto il presente. Cerchiamo di approfondire questo concetto andando a vedere le varie variabili che ne fanno parte. Partiamo dall'intenzione. L'intenzione è divisa in esterna e interna. Quella interna è legata all'influenza attiva sul mondo esterno, alla determinazione ad agire. L'intenzione esterna è una determinazione ad avere, quindi il mondo diventa oggetto alla volontà umana. L'intenzione interna si concentra sul processo del proprio movimento verso la meta, quella esterna. Focalizza l'attenzione su come la meta si realizzi da sola. Come potete notare, l'intenzione interna ha più a che vedere con la nostra identità, con il modo quindi in cui noi ci identifichiamo con la nostra visione, con i nostri obiettivi, con la persona che siamo e che vorremmo diventare. L'intenzione cambia il nostro comportamento e di conseguenza anche la realtà. Se abbiamo l'intenzione di fare qualcosa di grande, non ci comporteremo come se non voressimo ottenere nulla. L'impegno in entrambi i casi sarà totalmente diverso. Per Zellant è importante anche il concetto della scelta. Il Transurfing offre un approccio fondamentalmente diverso al raggiungimento degli obiettivi. Si fa una scelta come se si ordinasse in un ristorante, senza preoccuparsi dei mezzi per raggiungerli, ossia di come il cuoco cucinerà tutto, come apparecchieranno tutto e ce lo serviranno. Noi sappiamo già in quel momento che avremo il piatto davanti a noi e non ci preoccupiamo di analizzare come tutto questo verrà organizzato. Noi non abbiamo nessun dubbio a riguardo. Quindi nella maggior parte dei casi l'obiettivo si realizza da solo, indipendentemente dalle azioni dirette del cliente che sta ordinando al ristorante. I desideri potrebbero non essere soddisfatti. I vostri sogni potrebbero non avverarsi, ma il vostro diritto di scegliere è una legge irrevocabile e inevitabilmente potrà influenzare tutto il processo. È impossibile spiegare in poche parole l'essenza della scelta. Tutto il Transurfing si occupa di ciò che rappresenta la scelta e come fare le nostre scelte. Zeeland va oltre anche analizzando il concetto di vita stessa, soffermandosi sulla strada che prendiamo, quindi la strada della vita. Una vita umana, proprio come ogni cosa, è essenzialmente una catena di causa ed effetto. Un effetto nello spazio delle varianti è sempre situato vicino alla sua causa. Allo stesso modo, l'uno segue l'altro. I settori vicini che giacciono nello spazio delle varianti si assemblano in una traccia di vita. Gli scenari e le decorazioni dei settori che si trovano sulla stessa linea di vita sono più o meno uniformi nella loro qualità. La vita umana si muove in modo uniforme lungo il suo percorso fino a quando non si verifica un evento che introduce un cambiamento sostanziale nello scenario e nelle decorazioni. Noi ci troviamo quindi nella nostra strada che è composta dallo spazio delle varianti e abbiamo il nostro obiettivo. In questo spazio di varianti dobbiamo fare le nostre scelte mantenendo sempre chiaro in mente l'obiettivo, ossia ragionando se la scelta possa portarci vicino all'obiettivo oppure no e dobbiamo successivamente decidere. Queste decisioni cambieranno in continuazione la direzione della strada. Ricapitolando, noi siamo in grado di influenzare la realtà attraverso le intenzioni che abbiamo quindi i nostri desideri, sogni, obiettivi eccetera e la realtà ci presenta varie possibilità di scelta davanti a noi nello spazio delle varianti. Noi dobbiamo scegliere con la chiara finalità di riuscire a rimanere nella strada della vita in direzione del nostro obiettivo. Lo spazio delle varianti è un campo informativo di ciò che è stato, ciò che è e ciò che sarà. La realtà può manifestarsi in un numero infinito di modi a seconda delle nostre scelte. Se in un determinato momento fate la scelta sbagliata questo non significa che tutto è perduto. Avete successivamente la possibilità di correggere tutto prendendo un'altra scelta. Per questo è che diciamo spesso che si può imparare dagli errori. Imparare dagli errori significa avere una seconda chance. Se non ci fosse la seconda chance non saremmo in grado di imparare qualcosa da questi errori. Bisogna rimanere aperti mentalmente e fare continuamente scelte prendendo decisioni. Ogni ramo della conoscenza si basa su un aspetto scelto della realtà manifestata. La tua scelta si trasforma sempre in realtà. Ciò che scegliete è ciò che ottenete. Se notate di aver fatto la scelta sbagliata cambiate tutto. Cambiate le scelte, il vostro modo di pensare, di ragionare, le affermazioni che usate e sostituitele adeguatamente. Le affermazioni sono estremamente importanti perché spesso tendiamo a dire a noi stessi è troppo difficile, non ce la farò mai, dovrei lasciar perdere e tutto questo influisce sul nostro subconscio. Tutte le nostre credenze vengono trasmesse automaticamente al subconscio, ossia la parte del nostro essere in contatto diretto con l'intelligenza infinita. Il subconscio non ha filtri e realizza tutto quello a cui noi crediamo collaborando con l'intelligenza infinita. L'intelligenza infinita è la fonte di tutte le risposte. Viene chiamata diversamente dagli autori che abbiamo visto in questo canale. Si può dare anche una connotazione spirituale e religiosa se credete in Dio. Molti la chiamano così oppure altri energia infinita. Il nome non ha importanza, il potere di cui dispone invece sì. Dobbiamo quindi nutrire ed elaborare informazioni che sono in sintonia con i nostri obiettivi per spingere il subconscio a lavorare per realizzarle. Ogni organismo dà il proprio contributo alla formazione di realizzazioni materiali. Non lottare per la felicità puoi semplicemente scegliere una variante che ti piace. I pendoli sono un concetto importantissimo nella filosofia di Zeeland. Gruppi di persone che pensano allo stesso modo creano strutture di energia basate sull'informazione chiamate pendoli. Queste strutture alla fine cominceranno a svilupparsi in modo indipendente. I pendoli creano le loro leggi e fanno sì che le persone le rispettino. Quello che le persone non si rendono conto è che stanno agendo controvoglia nell'interesse di questi pendoli. È un concetto molto interessante e si può individuare facilmente nella vita di chiunque. Notiamo spesso come molte persone conservino gli stessi pensieri e le stesse opinioni riguardo a determinate tematiche. Di conseguenza formano una specifica struttura di energia. Questo concetto si nota specialmente nella contrapposizione di pensieri che c'è tra ricchi e poveri. Loro hanno delle considerazioni totalmente diverse a riguardo e livelli di energia totalmente diversi. Questo è uno dei motivi per cui non otteniamo gli obiettivi che vogliamo. Siamo intrappolati nell'energia negativa che abbiamo creato non avendo avuto fede, convinzione e avendo consumato solo informazioni che erano in contrasto con il nostro obiettivo. Un pendolo è creato dall'energia di persone che pensano allo stesso modo. Un pendolo è una struttura informativa basata sull'energia. Ci sono alcune distinzioni che andremo a vedere. Un pendolo si nutre dell'energia dei suoi aderenti e quindi amplifica il suo movimento. Un pendolo cerca di attrarre il maggior numero possibile di sostenitori in modo da poter ricevere quanta più energia possibile. Zeeland parla dell'importanza di saperlo riconoscere e non rifiutarlo aggressivamente ma semplicemente danzarci insieme prendendolo alla leggera in modo da diminuirne la forza. Un esempio di pendolo vi faccio un esempio semplice. Siete al supermercato state comprando qualcosa e la cassiera è molto scortese si lamenta urla vi dà la colpa. Se lì rispondete aggressivamente verrete attirati dal pendolo. se invece sorridete e lasciate scorrere ve ne siete liberati. Uscirete dal supermercato e continuerete la vostra giornata lasciando la cassiera nella sua frustrazione. Se rispondeste finireste per prendere la frustrazione insieme a voi. Se riuscite a danzarci però ossia rispondete in modo cortese facendo finta di non aver ascoltato riuscirete a liberare anche lei dal pendolo in cui è finita. Un pendolo mette il suo gruppo di aderenti contro tutti gli altri gruppi. Si tende a dire guardaci noi siamo meglio di loro. Un pendolo è aggressivo nel dare la colpa a tutti coloro che non vogliono diventare suoi aderenti e cerca di conquistarli e neutralizzarli tutti insieme. Se credono in una determinata causa faranno di tutto per appoggiarla agendo anche in modo irrazionale. Un pendolo indossa maschere belle e attraenti si copre di nobili scopi e gioca sulle emozioni della gente per giustificare le proprie azioni e conquistare il maggior numero possibile di aderenti. Un pendolo gioca sui sentimenti delle persone attirandole nella sua rete per questo motivo studiando se stessi si aumenta la propria consapevolezza di sé e si capisce cosa si sta attirando in un determinato momento. La visualizzazione positiva spegne delicatamente un pendolo circondatevi da persone positive ponetevi obiettivi e credeteci quindi credete di poterli raggiungere meditate quando non vi sentite tranquilli in questo modo si influenzerà positivamente il proprio subconscio e si finirà per attirare persone e circostanze che sono in sintonia con i nostri obiettivi allontanando i pendoli che sono in contrasto con tutto questo dobbiamo quindi fare molta attenzione a ciò a cui ci esponiamo perché questo finirà per influenzare il nostro subconscio l'onda del successo l'onda della fortuna si forma come un assemblaggio di linee di vita che ti sono favorevoli lo spazio delle varianti contiene ogni cosa comprese queste vene d'oro quando vi trovate su tale linea e siete fortunati potete scivolare sotto l'inerzia sulle altre linee di assemblaggio dove seguiranno nuove circostanze fortunate ci sono momenti in cui siamo così fortunati da riuscire a notare un elevato successo in tutto quello che facciamo ma se dopo il primo successo si colpisce ancora una volta un brutto punto allora si è stati agganciati da un pendolo distruttivo che ci ha sottratto all'onda della fortuna qualsiasi persona affronta momenti di fallimento ma in questi momenti diventa fondamentale la reazione ossia il modo in cui rispondiamo a questo fallimento non bisogna permettere che diventi devastante bisogna usarlo come una lezione dalla quale imparare per migliorare e andare alla ricerca di nuove vittorie la vita è così è un continuo andare in avanti e indietro affinché il vostro amore sia ricambiato è necessario abbandonare il diritto di possessione questo punto è molto importante non otteniamo quello che vogliamo otteniamo quello che siamo bisogna dare prima di ricevere se volete successo dovete prima dare energie e sforzi se volete amore dovete prima darlo liberatevi dalla necessità di confermare la vostra superiorità sforzarsi di nascondere i propri difetti crea l'effetto opposto sforzandovi evidenzierete maggiormente i vostri difetti bisogna accettare se stessi per quello che sia potete cambiare quello che siete se lo vorrete ma servirà tempo maggiore è l'importanza dell'obiettivo minore è la probabilità di raggiungerlo il segreto secondo Zelland è quello di relativizzare l'importanza dell'obiettivo in modo da poterlo trattare con scioltezza questo aiuterà a raggiungerlo dite di no a qualsiasi senso di colpa e alla necessità di giustificarvi per rifiutare il senso di colpa è sufficiente permettere di essere te stesso nessuno ha il diritto di giudicarti tu hai il diritto di essere te stesso l'importanza è l'unico ostacolo sulla strada per soddisfare il tuo desiderio non superare gli ostacoli riduci la loro importanza bisogna interessarsi a qualcosa ma senza preoccuparsi ad esempio voglio raggiungere questo obiettivo è un mio obiettivo ma a prescindere dall'importanza lo tratterò come qualcosa di secondario non tratterò nulla come se fosse una questione di vita e morte interesse e preoccupazione non devono andare di pari passo i segnali che aiutano a capire se ci stiamo comportando nella maniera giusta sono numero uno polarizzazione la polarizzazione è un potenziale eccessivo che sorge quando si dà un'importanza eccessiva ad alcune proprietà si crea un rapporto di dipendenza quando le persone cominciano a paragonarsi a confrontarsi e a stabilire condizioni come se lo fai tu lo farò io e così via l'eccessivo potenziale non fa paura mentre la valutazione distorta esiste di per sé ma se la valutazione artificialmente elevata di un oggetto viene confrontata con un altro si verifica una polarizzazione che a sua volta dà origine al vento delle forze di bilanciamento si cerca di eliminare la polarizzazione avvenuta e nella maggior parte dei casi la loro azione è diretta contro chi l'ha creata dobbiamo quindi affrontare la realtà con uno stato d'animo positivo e creativo invece di combatterlo portando odio e frustrazione bisogna anche bilanciare le forze ovunque ci sia un potenziale eccessivo si creano forze di bilanciamento dirette dalla sua rimozione esse sono create dall'energia mentale quando una persona dà un'importanza eccessiva ad un oggetto questi sono concetti che abbiamo visto anche nel Kibalion analizzando le varie leggi dell'universo vi lascio il link in descrizione nel caso vi interessasse quel libro transizione indotta ogni uomo crea uno strato separato del mondo dove vive il mondo delle persone nel suo insieme è costituito da singoli strati posti uno sopra l'altro una risposta ad un evento negativo induce il trasferimento a tracce di vita negative non permettere significa non evitare ma ignorare intenzionalmente e non interessarsi a certi tipi di informazioni durante la nostra quotidianità ci confrontiamo con informazioni diverse e abbiamo la possibilità di scegliere se vogliamo polarizzarci oppure no ossia abbiamo la possibilità di scegliere se vogliamo analizzare tutte queste informazioni e prendere una posizione oppure ignorarle per evitare mal di testa inutili specialmente nei casi in cui non possiamo fare nulla per cambiare le cose secondo Zeeland il segreto sta proprio qui nell'ignorare ignorando si hanno più possibilità di cambiare le cose perché così esse cambierebbero da sole il flusso della variazione lo spirito non pensa e non parla ma sente e sa il segreto sta nel riuscire ad allineare i desideri del cuore con la propria mente e farlo in armonia per creare da soli la nostra realtà se avete la possibilità di rifiutare una decisione scomoda rifiutatela la mente si sforza di controllare non il proprio movimento lungo il flusso ma il flusso stesso questa è un'informazione molto importante la mente cerca di controllare il flusso della realtà e non se stessa è vero perché se ci fate caso noi tendiamo a pensare alle cose che succedono o che devono succedere invece di concentrarci sui pensieri che abbiamo e sul perché stiamo pensando a ciò a cui pensiamo in questo momento ignorando le preoccupazioni si riesce ad eliminarle se ci fate caso spesso ci preoccupiamo di cose che non accadono mai e spesso finiamo per dire a noi stessi sono stato proprio stupido a preoccuparmi di questo era ovvio che non sarebbe accaduto pensateci su per un attimo però non sarebbe stato meglio non preoccuparsi per niente avremmo evitato mal di testa inutili è proprio quello che Zelland consiglia lui consiglia di ignorare tutte le preoccupazioni e di preoccuparvi solo del vostro presente specialmente di cose che dovranno succedere tra qualche anno c'è chi si preoccupa del giorno della laurea prima di iscriversi all'università solitamente queste persone non riescono mai a fare una vita felice e tranquilla è una questione di conoscere e rispettare le leggi dell'universo questo è un aspetto fondamentale per vivere una vita felice un tema analizzato molto dettagliatamente in uno dei miei video precedenti di Ermete Trismegisto il Chibalion l'ho menzionato spesso durante questo video perché penso sia un libro che insieme a al Transurfing di Zeeland siano libri molto correlati tra di loro e io vi consiglierei addirittura di leggerli contemporaneamente perché il Reality Transurfing aiuta ad approfondire i concetti del Chibalion vi lascio il link comunque del video che ho fatto a riguardo in descrizione in quel libro c'è una frase molto importante che ve la riporto le labbra della saggezza sono aperte solo alle orecchie della comprensione avendo rinunciato al controllo secondo Zeeland si ottiene il controllo reale di una situazione se vi muovete lungo il flusso delle varianti il mondo verrà fuori ad accogliervi questo è il libro Reality Transurfing di Vadim Zeeland un libro molto interessante che insegna come ignorando le situazioni scomode porti ad eliminarle miracolosamente spero che il video vi sia piaciuto vi ringrazio della vostra attenzione e ci risentiamo nei prossimi video ciao